Lo sai che Emanuela e Carlo questo mese hanno difficoltà a pagare la bolletta? Non hanno mai fatto i conti con un bilancio mensile delle loro entrate e uscite. Ma tu sai che cos'è un budget personale? No? Allora te lo spiego subito. Il budget familiare è uno strumento essenziale per la gestione corretta e consapevole del proprio denaro. E non è che dato che lo chiamiamo familiare lo devono usare solo le famiglie. Dovrebbero usarlo tutti, ma proprio tutti. Affrontare le decisioni di spesa straordinaria, piuttosto che gli imprevisti economici, come la spesa del dentista, è un'ottima occasione per iniziare a capire come usare il denaro, a gestirlo tra entrate e uscite senza restare senza. Ma soprattutto capire che il risparmio è fondamentale per affrontare le situazioni di emergenza. Dobbiamo imparare a risparmiare un po' tutti i mesi. E la famiglia allora cosa c'entra? In famiglia avere un budget è ancora più importante. Le esigenze di una famiglia sono tante e usare il budget è fondamentale per non dimenticarne nessuna e scoprire che ci sono bollette da pagare di cui ci eravamo dimenticati. Ma soprattutto è essenziale parlarne in famiglia e condividerne le scelte, così che tutti sappiano quanti soldi ci sono a disposizione e possano comportarsi consapevolmente. Se volete iniziare ad usare il budget familiare, Grazie a tutti.